buona sera voglio darvi una informazione che spero vi possa far piacere noi stiamo scaricando l'archivio dei video del canale mauro biglino official channel sulle principali piattaforme di podcast come spotify o le altre insomma le vostre preferite lo stiamo facendo anche perché pensiamo a quelli che magari non possono vedere i video perché magari stanno facendo altro stanno guidando stanno lavorando stanno che so facendo le pulizie di casa e diamo quindi a loro anche questa possibilità e poi c'è anche un altro motivo che ci pare che gli eventi stiano incalzando e quindi le cose stiano andando sempre più rapidamente per cui pensiamo che sia bene che altrettanto rapidamente vada la diffusione della informazione quindi se volete ci possiamo ascoltare sul mauro biglino official podcast ciao grazie e alla prossima grazie a tutti